rapidissimo video di presentazione ok ciao a tutti io sono raffaella liverio ho 34 anni e sono un'attrice ma non solo in realtà qualche anno fa ho fondato una start up in design e tecnologia e quindi ho espresso il mio lato nerd e la mia passione per la bellezza italiana il mondo della recitazione è entrato nella mia vita in un modo un po particolare mi sono trasferita a san paolo in brasile qualche anno fa e per addentrarmi in questa nuova cultura imparare una nuova lingua ho scelto di farlo attraverso un corso di doppiaggio e poi anche di recitazione cinematografica da lì non ho più ammolato i miei studi e quindi ho scelto di fare una professione ento agora io falo portugais asco brasil a mia seconda casa e sto con molto saudade di san paolo mesmo e però attenzione perché è vero che viado vado all'estero viaggio faccio cose però le mie origini sono calabresi infatti i miei genitori sono nati in un paese piccolo della calabria e io non è che posso andare in giro e dimenticarmi come si dice pepe patato brasciole sennò a natale la zia giovanna come io lo chiedo è vero che sono nata cremona nell'italia del nord quindi mi accento un pochino nordico diciamo però anche una bella parte calabrese dentro di me è un pediassigno di di san paolo do brasil e questo sono gli oggi e miei mani e i miei profili grazie